Siamo ancora in piena estate col mese di agosto alle porte, ma si sta già lavorando alla cremente per la prossima stagione televisiva. Pur il grande fratello non è assolutamente fermo, anzi, ci sono già quattro concorrenti che sarebbero sicuri di partecipare. E due di loro arrivano da Temptation Island 2024, dopo il grande successo dell'ultima edizione, una notizia che farà molto piacere al pubblico di Canale 5, che non vede l'ora di assistere nuovamente al grande fratello. Signorini avrebbe puntato fortemente su quattro concorrenti. Due come detto arriverebbero da Temptation, mentre gli altri due sono personaggi molto conosciuti e apprezzati da tantissimi italiani. Grande fratello, quattro concorrenti in arrivo, due da Temptation Island. A svelare tutto sul grande fratello e sui nomi di questi quattro concorrenti, che dovrebbero varcare la Porta Rossa a settembre, è stato il sito da Gospia. All'interno della rubrica a lume di Candela, il giornalista Giuseppe Candela ha confermato che ci saranno due volti conosciuti della TV nonché i due protagonisti dell'edizione appena finita di Temptation Island. Soffermandoci sul programma di Filippo Bisciglia, potrebbero giungere al grande fratello Lino e Alessia, che si sono lasciati dopo Temptation Island. Poi potrebbe prendere parte al reality show di signorini Enzo Paolo Turchi, marito di Carmen Russo, che come ricordato dal sito Novella 2000 è già stato concorrente in passato dell'Isola dei Famosi, di Bake Off Italia Celebrity, Celebrity Chef e Non Sono Una Signora. Infine, Alfonso avrebbe deciso di puntare su Carina Cascella, l'opinionista ex uomini e donne che si è allontanata dalla TV ma che ora potrebbe ritornare ad essere protagonista.